Aiutaci che Santo Ronzo ti aiuta. In tempi di crisi e casse comunali vuote, l'unico modo per salvare le feste patronali, migliorarle e, se possibile, farne un'occasione di sviluppo, è la ricerca di una sorta di joint venture con i privati e gli operatori commerciali del centro. Questo è il senso dell'iniziativa che vede insieme il Comitato Organizzatore della Tre Giorni di Festeggiamenti per i Santi Oronzo Giusto e Fortunato e l'amministrazione comunale. Il presidente del Comitato Gianni Renna e il consigliere comunale delegato ad hoc da Palazzo Carafa Rocco Ciardo saranno impegnati in un porta a porta fra gli esercenti del cuore storico della città barocca e del centro commerciale alla ricerca di contributi in danaro. Non ha importanza l'entità dell'obolo profesta, quello che conta è partecipare per il piacere di farlo in qualunque misura e anche per averne un ritorno. Il Comitato ti chiede una mano, il Comitato ti dà una mano, lo slogan dell'iniziativa avviata in queste ore dal consigliere Ciardo che già ottiene qualche riscontro. A chi vorrà contribuire sarà rilasciata regolare ricevuta. Ci teneva a sottolineare diffidate dai furbi? Diffidate da chi eventualmente si può inventare una storia, non date nulla perché lo farò io personalmente, ritirerò io la somma che eventualmente un commerciante vorrà dare come contributo, se non vorrà darlo non fa niente e rilasceremo una ricevuta. Con l'aiuto, si spera generoso della lecce produttiva, si potrà quindi stilare un programma più ambizioso della festa, quest'anno allargata fino a coinvolgere le marine. Lo si conoscerà nei dettagli nei prossimi giorni.